Wella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi siamo al nuovo video di Clash Royale Ragazzi finalmente è arrivata la nuova stagione di Clash Royale e io non vedo l'ora di vedere che cosa hanno aggiunto So qualche cosa, so che ci ho azzeccato alla fine riguardo alla nuova stagione Come ben sapete io qualche giorno fa ho pubblicato un video dove avevo detto che probabilmente a mio parere la nuova stagione sarà stata a tema arcade Ed effettivamente ragazzi è così Quindi ragazzi adesso entriamo subito all'interno del gioco Prima di cominciare un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Così non vi perderete tutti i video che usciranno in questi giorni di Clash Royale Anche perché adesso raga vi ricordo che l'obiettivo sono le 6000 coppe, 6000 trofei Quindi mi raccomando un bel like perché ci saranno sicuramente altri contenuti di Royale prossimamente nel canale Ragazzi non perdiamoci in ulteriori indugi Andiamo ad aprire il signor Clash Royale e vediamo che cosa hanno aggiunto Non sto più nella pelle perché veramente ragazzi sto registrando questo video È cambiato il sound? Non lo hanno mai cambiato mi sa Un tuffo nel passato Io sto registrando ragazzi a mezzogiorno e mezzo La season è uscita alle 9 del mattino Non avete idea È stata dura aspettare 3 ore e mezza Però va bene Allora un tuffo nel passato Nuova stagione Vediamoci a questo punto giusto un attimo il trailer Che già avevo visto tra l'altro stamattina Ho visto che hanno aggiunto delle emote Le arcade tower sono bellissime Nuove emote arcade Molto belle Nuovi battle banners Questi non me li voglio spoilerà C'è una nuova carta Che non so se effettivamente resterà per sempre Oppure se è solo per un evento Modifiche di bilanciamento che abbiamo già visto nel video di ieri Andatevelo a recuperare se non l'avete visto Free common books Pass royale reward Altri emoticon Mamma mia ma sta Sta carta è sgravata Ok ragazzi Ok Allora Intanto risultati di fine stagione Siamo arrivati come ben sapete A 5607 trofei Azzeramento a 5304 trofei Per cui siamo a tutti gli effetti In Lega 2 Che come inizio non è assolutamente male Carta potenziata ovviamente i barbari Ma anche ragazzi Attenzione Il barile barbarico La capanna dei barbari E non mi sembra nient'altro Madonna ragazzi Sentite la musichetta No ma mi fa strano ragazzi Perché di solito non cambiano mai la musichetta Quando avvi il gioco E all'interno della lobby Non è mai cambiata È la prima volta in assoluto Sono contento ragazzi Io vi invito veramente a shopparvi questo pass Se avete la possibilità Perché veramente ragazzi Queste Diciamo Come posso dire Celebrazioni di anniversario Accadono una volta probabilmente ogni 10 anni Adesso tra 10 anni ci saranno i 50 anni di Clash Ma se ne parla tra 10 anni ragazzi Quindi voglio dire O una volta ogni 10 anni Accade una roba del genere Quindi è un'occasione Che non va assolutamente sprecata direi Apriamoci al volo Un baule della corona Vado ad abbassare leggermente il volume Così non vi trapano le orecchie Allora abbiamo anche le Offerte giornaliere Vediamo il mercante Cosa ci dà Nulla di che Però abbiamo il domatore Che io sicuramente vado a Prendermi Cedo un pochino di Di strutture Però almeno Mi vado a prendere il domatore Che è tanta roba Ne posso prendere altri 50 A sto punto Gli vado a dare questo Mi devo svuotare di tutti sti scambi Che posso fare Perché veramente ragazzi Sono pieno Ok Allora Andiamo subito a vedere il pass Ragazzi Tra l'altro Deposito d'oro bonus 4250 di oro Il pass ragazzi Lo andrò a sciopare in un video a parte Nei prossimi giorni Quindi tranquilli Vado a prendermi questi 1000 di oro Gratis E ragazzi Il percorso del Mamma mia È bellissimo ragazzi Questa volta di design Si sono veramente superati Ok Andiamo a vedere al volo Il pass ovviamente C'è il libro dei libri Al livello 5 Abbiamo le skin delle torri Che non sono quelle Che abbiamo visto all'inizio del video Perché ci sono ben due skin delle torri Le seconde Quelle la stile viola Usciranno probabilmente Nello shop prossimamente O forse sono già uscite Dopo andiamo a vedere Abbiamo allo sogno numero 20 Questa icona Che Questa emot Che secondo me è la più bella Di tutte quelle che hanno aggiunto E abbiamo poi Ovviamente Moneta magica E baule dei jolly royale E a livello 35 Il libro delle carte comuni Ragazzi sono stato un po' sfortunato Perché come ben sapete Se mi veniva fuori nel pass Il libro delle carte rare Avrei potuto maxare il deck In una stagione Invece così Devo aspettare un'altra stagione Peccato 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 A sto punto ragazzi Vi invito a scrivermi nei commenti Quale dovrei Maxare per prima Il domatore Oppure la sfera infuocata Fatemelo sapere nei commenti Perché sono veramente In dubbio Allora Andiamo subito Intanto a prenderci Le ricompense Del Del cammino Ok Un altro scambio 25 jolly rari Che male non fanno Anzi 5000 di oro E signori Siamo in sfidante 2 Che figo il percorso Stagionale Veramente Tanta tanta roba Allora abbiamo qui Ok 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 Tra l'altro ho già un libro comune Quindi mi tocca per forza Usarlo Andiamo a vedere ragazzi Gli standardi E qui sono veramente curioso Oh mio dio Quanti ne hanno messi Madonna ragazzi Quanti ne hanno messi What the fuck Ragazzi Allora hanno messo Questo qui del re Questi due sfondi Molto carini Questo arciere Abbiamo Hanno messo dopo Il colosso Il minatore No scusate Il pescatore Mareggiata Oh mio dio Questo è bellissimo Questo è veramente figo E dopo hanno aggiunto Tutti quelli di questa stagione Ovvero Il barbaro Pixelato Che stavo per dirlo Senza leggere il titolo Tra l'altro Paisaggio Pixelato Guerra Ray pixel Potere del pixel Questo è veramente bello Paradosso pixelato E infine Capanda pixelata Ragazzi Io speravo Che Allora Ero quasi sicuro Che avrebbero tolto Il gigante Scheletro Però mi aspettavo Che il mini pecca Lo lasciassero Invece hanno tolto Anche quello Quindi ragazzi Beati voi Che avete preso Tutti e sedici Gli standardi Se li avete presi Tutti e sedici Perché io Purtroppo Non li ho presi tutti Mi dispiace Però ragazzi Purtroppo È stato veramente difficile Senza pass Riuscire ad averne abbastanza Per prenderli tutti Fatto sta ragazzi Che Andiamo a richiedere Altri domatori Stiamo a 393 E Ok Si è azzerato Effettivamente Il conteggio Delle gemme Io me ne vado a sciuppare Giusto uno ragazzi Giusto per Dare inizio A questa nuova stagione Di clash royale Il cannone del re Ok Ok Molto carino Così già I facili Ce li togliamo fuori Dalle scatole E poi con calma Iniziamo a collezionare Tutti quelli di questa stagione Perché ricordo Quelli di questa stagione Dopo Tra 34 giorni Scompariranno Attenzione Attenzione ragazzi Le sfide speciali Ah giusto Prima di Andare a vedere Le sfide speciali Ragazzi Andiamo al volo A ritirare Il baule del clan Quarto posto Non stiamo giocando moltissimo Quindi va anche più che bene Vediamo cosa troviamo Perché il baule del clan È uno dei migliori Bauli da aprire Non troviamo la leggendaria Perché al quarto posto È difficile trovarla Va bene Va bene ragazzi Meno 40 Vabbè ragazzi Non mi interessa Sinceramente Io le Le war me le faccio Tutti i giorni Però ragazzi Il mio clan In questo momento Non è molto attivo Perché Clash Royale Insomma Sapete bene Che Non sta Vivendo un periodo Bellissimo In questo momento Perché C'è meno Molta gente che si è stufata Ed è andata Su Stumbleguise Allora Tra l'altro vi faccio notare Ragazzi Ma penso che già L'aveste notato Che questa arena qui È l'arena dei barbari L'arena 3 Solo che ovviamente È pixelata Quindi molto figa come cosa Ovviamente adesso Ci andremo a fare una partita Perché non voglio lasciare Le mani nude Eccola qui L'arena dei barbari Però pixelata Quindi molto carina Un po' modificata Insomma ecco qui Abbiamo la sfida Dello spara barbari Eccola qui Allora Vediamo un attimo Le ricompense 40 40 buoni 60 buoni 100 buoni Mio dio Ragazzi Devo assolutamente Sciuppare il passo Perché come ben sapete È difficile Almeno che non sei Abbastanza forte Riuscire a Non fare tre sconfitte Insomma Quindi ecco 2000 di oro E al Decima vittoria Sbloccate queste emot Molto molto carina In arrivo anche Qualificati Per la CRL Dovrebbe essere La sfida Delle 20 vittorie Questa qui ragazzi Quindi veramente Ma veramente Impossibile Questa qui Però Al raggiungimento Della fine Guadagnate 100.000 di oro Insomma Non è male Io vi invito Comunque a provarci Ma Se non sei forte Qui è impossibile E niente Niente ragazzi Ovviamente Ah ok Qua puoi mantenere Il tuo progresso Giustamente Qua Puoi azzerare Con il pass Ma devi ricominciare Da capo Quindi in ogni caso Devi rifare tutto A zero E attenzione Perché Nell'icona Eventi C'è effettivamente La nuova Carta Dei barbari Ora Io sono curioso Di vedere Se Sarà La nuova No ok No ok Allora Probabilmente La metteranno Solo come una sfida Non l'ho mostrato Bene nel video Ma Dovrebbe star Arrivando Hanno liccato Una nuova carta Chiamata Lo spara Barbari Una cosa Del genere Praticamente Piazzate Questa struttura Che spara I barbari Nel Nel campo avversario Che è molto bello Però Penso che sia solo Per una sfida Quindi non sarà Una nuova carta Effettivamente In ogni caso Siamo a 107 mila Di oro Quindi potremmo Già Maxare una carta Volendo Ma al momento Non abbiamo La possibilità Di farlo Quindi Va bene Pazienza Io ragazzi Direi Per concludere Il video Di andarci A fare Una bella Partitella Scusate Se sono stato Un po' troppo In lobby Però Ci tenevo A vedere Assieme a voi Tutte le Che bello Lo sfondo Ragazzi Probabilmente Verrà modificato Anche Dopo Se modificavano L'icona Delle motte Impazzivo No Vabbè Ragazzi Mi Mi sembrava Di star Sentendo male Invece Così Hanno Modificato Anche Il Qua Un cannone Orrendo Veramente Ho piazzato Non sto Concentrato Mentre Registro Veramente Mi devo Giocare La La ladder Me la devo Giocare Più che altro Da solo Perché non Mi concentro Registrando Perdonatemi Ragazzi In ogni caso Cosa che volevo Dire Ah si Che hanno Modificato La musichetta Anche Nelle Partite Ad alcuni Potrebbe Da fastidio Ma sinceramente A me Non disturba Anzi E questo potrebbe Essere Effettivamente Un nuovo Inizio Per clash Royale Visto che Come ben Vi dicevo Prima Non hanno Mai modificato Le canzoni E tutto Potrebbe Essere Effettivamente Una sorta Di avviso Che magari Adesso Metteranno Delle Canzoncine Per commemorare Ogni stagione Non sarebbe Male Effettivamente Non mi dispiacerebbe Come cosa Però D'altra parte Nella ladder Dopo La canzoncina Classica Non ci sarebbe Praticamente Più Che sfiga Però ragazzi Qui ho avuto Sfiga La nuova arena È veramente Ma veramente Fighissima Molto Molto In tema Molto Bella Mi sa che Mi tocca Tirare una Fireball Perché se no Me la prendo Nel capranzi E niente Doveva Hittare No Lui doveva Hittare E mi tocca Fa così Mi ha tirato Anche una lagata Non so se avete Notato Eh no Ragazzi Questa è Persissima 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 Veramente Persissima Questa partita È leggermente Counter È leggermente Counter Ma io Proprio Non mi concentro Mentre sto Registrando Perché Di solito Mi metto Quando sto In ladder E non sto Registrando Mi metto In mood Ciccio Gamer E Trajardo Qua mi viene Difficile Trajardare Purtroppo Sì ma Guardate Quante Quante Robbe Mi ha Messo Ragazzi Mio Dio Madonna Santissima Io Ragazzi Riparto Subito Con un bel Push Non me Ne frega Niente Perché Io Con Sto Deck Riesco Anche a Difendere Certe Carte Però Lui Vedete Ha tutta Roba Che mi Counter Alla Tesla Mi counter Un Fottio Perché Io Principalmente Attacco Con Il Domatore Come ben Sapete E quindi Se lui Ha una Struttura Tipo la Tesla Purtroppo Non ce la Faccio E pazienza Ragazzi Ci ho provato Vabbè Non importa Tanto Con calma Recuperiamo Abbiamo Tutta una Stagione Per Recuperare Non c'è Assolutamente Il problema Era giusto Un attimo Per provare La nuova Arena Adesso Ragazzi Io Cercherò Di convincere Il mio papà A farmi Shoppar In pass Così Possiamo Già Vedere Un attimo La sfida Dei Barbari Veramente Bellissimo Il nuovo Sfondo Mi piace Tantissimo Ragazzi Io ripeto Vi invito Ad andarvi A vedere Il video Dell'anniversario Di Clash Lo trovate In descrizione Ve lo metto In descrizione E andatevelo A vedere Perché è Veramente Bello Io È stato Molto Emozionante Veramente Bello Non mi sono Emozionato Io Però è stato Molto Bello Quindi vi invito Ad andarvelo A vedere Perché è Veramente Molto 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 Figo Ragazzi Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa nuova stagione A me non sembra Per niente male Anzi Si prospetta Veramente Un agosto Molto 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 Bello 34 giorni Di stagione Quindi dura Anche qualche giorno In più Rispetto al normale Quindi Nè male Nè male Buono Buono Anche la scorsa stagione Se non erro Durava Leggermente di più Ci becchiamo A sto punto Con una nuova stagione A settembre Settembre Il mese Più brutto Dell'anno Perché La scuola Riapre le porte Però Abbiamo ancora Un mese Di vacanze Quindi godiamocelo So che passerà In un secondo Però Vabbè Ragazzi Non importa Godiamoci Quest'ultimo mese Di agosto Ragazzi Io spero Che il video Vi sia piaciuto Come al saluto Se il video Vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale E attivate la campanellina Per non perdere nessun video Seguitemi sui social Trovate tutti i link In descrizione Fatemi sapere nei commenti Mi raccomando Cosa ne pensate Della nuova stagione Dei barbari E niente ragazzi Ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi